In occasione di un recente evento organizzato da Bandai Namco abbiamo potuto mettere le mani su My Heroes Once Justice 2, sequel del picchiaduro uscito due anni fa e basato sull'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia. Opera che ha ottenuto un successo clamoroso, con il manga che ha venduto quasi 20 milioni di copie e l'anime che ha ricevuto oltre 45 milioni di visualizzazioni. Una delle grandi novità di My Heroes Once Justice 2 risiede ovviamente nelle new entry del roster, basate ovviamente su quella che è la nuova stagione dell'anime e alcuni degli episodi più affascinanti del manga. Night Eye, Overhaul, Fat Gum, Tamaki Yamajiki, Nejire Hado e Twice saranno solo alcuni dei personaggi che si potranno utilizzare e che porteranno a oltre 40 combattenti il roster del gioco. Ognuno con le proprie peculiarità e le sue abilità fedelmente riprodotte è in grado di rendere ancora più stratificato un sistema di combattimento che ancora soffre di una certa macchinosità, risultando poco immediato specialmente se non si ha dimestichezza con il franchise. Tutto rimane pressoché invariato nel gameplay, che vede il ritorno della barra plus ultra e l'importanza sempre più persistente delle mosse spezza guardia. Giocare nei panni di Midoriya e compagni poi vi permetterà di ripercorrere a grandi linee gli avvenimenti del manga e dell'anime grazie al ritorno dello story mode, con focus stavolta sulla quarta stagione. Insomma, come da tradizione per i picchiaduro che si basano su opere esistenti, l'innovazione è sempre molto marginale e l'idea è quella di migliorare con piccole introduzioni un format che prova essere vincente. Oltre al roster, in My Heroes Once Justice 2, altre novità si trovano nelle diverse opzioni messe a disposizione del giocatore. All'interno della modalità Versus potremmo per esempio affrontare scontri due contro due in cui ogni giocatore potrà utilizzare un personaggio diverso, mentre i combattimenti saranno personalizzabili con vestiti e accessori in un menu apposito. Purtroppo queste novità non erano disponibili nella demo che abbiamo provato e ci siamo concentrati solo sui classici scontri con la CPU e contro altri giocatori. Tutti i nuovi personaggi offrono diversi spunti interessanti, soprattutto perché rendono più vario il parco mosse con maggiori possibilità anche dalla distanza. Un esempio è Overhaul, che attraverso i suoi attacchi, dotati di una smodata area d'effetto, risulta spesso e volentieri inespugnabile, soprattutto nell'attivazione delle abilità Plus Ultra. Purtroppo però in certi casi i combattimenti risultano tanto caotici quanto ingestibili, esattamente come nel caso del predecessore. L'eccessivo utilizzo dei Quirk e la possibilità di richiamare gli alleati a supporto rendono a volte l'esperienza un minestrone di tecniche e scontri difficili da gestire e da leggere. L'altra faccia della medaglia è comunque un picchiaduro rispettoso dell'anime e dunque ricco di azione e frenesia, proprio come ce lo si aspetta, con la grande distruttibilità ambientale che esalta ogni battaglia. Al netto di qualche difetto ereditato dal primo episodio, My Hero Once Justice 2 promette di essere il picchiaduro che i fan si aspettano, rispettoso della saga e in grado di ampliare in termini di roster quanto fatto dal predecessore. Nel bene e nel male il gioco di Bandai Namco non vuole insomma stravolgere la formula del capitolo precedente, ma se la story mode sarà un grande valore aggiunto e se le modalità verranno ampliate esponenzialmente lo scopriremo in fase di recensione. L'uscita di My Hero Once Justice 2 è prevista per PC e console il prossimo 13 marzo, ma nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del gioco e se siete fan dell'anime.